E ciao a tutti qui da Abel FC, c'è una notizia molto importante per la salernitana perché Diego Perotti, l'attaccante argentino che conosciamo molto bene in Italia si legherà ufficialmente questo pomeriggio alla squadra di Salerno, al club Granata La prima dichiarazione che ha fatto è stata secondo me molto positiva e interessante perché lui dice fisicamente sto bene, sono pronto a dare il 100% per questa squadra ed è un sogno giocare e condividere lo spogliatoio con un giocatore come Ribéry credo che abbiamo il potenziale per compiere un'impresa Sono molto contento di queste dichiarazioni, il principale dubbio che aveva la squadra erano le condizioni fisiche del giocatore ma sembra che sia veramente a posto hanno fatto un controllo giustamente per capire se può dare al meglio, può rendere al meglio e credo che i risultati siano molto positivi e secondo me Perotti potrebbe essere molto interessante anche per il fatto a calcio perché dico questo? Perché secondo me non molti ci punteranno su di lui per una squadra che comunque ha avuto fino adesso un po' di difficoltà in classifica giustamente ne ho promossa, una squadra che fino adesso non ha reso tantissimo bene ma secondo me Perotti potrebbe dare un contributo importante a un giocatore che ha molta esperienza e ha un talento importante e insieme a Ribéry e non solo potrebbe fare veramente bene Voi cosa ne pensate? Pensate che Perotti possa rendere bene, possa far bene in Serie A? Secondo me come ultima slot o penultima slot che avete secondo me può essere un ottimo acquisto e per la Salernitana o comunque un giocatore che era svincolato quindi può aggregarsi a qualsiasi rosa anche adesso a mercato chiuso perché è svincolato secondo me Perotti può far bene Mi raccomando scrivete qui sotto quello che pensate di questa notizia e iscrivetevi anche al canale per vedere altri video come questo e non solo Ci vediamo presto qui da Abel FC A presto, ciao!